Contrasto all'immigrazione clandestina e all'ingresso nel territorio provinciale di criminalità pendolare. Risponde a questi obiettivi l'attività di controllo e prevenzione messa in atto nell'ultimo periodo dalla Questura di Sondrio e riassunta in una nota diffusa dagli uffici di Via Nazario Sauro. Cinque i provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale adottati dall'Ufficio Immigrazione della Questura Valtellinese nei confronti di un cittadino marocchino, di un senegalese, di un moldavo, di un georgiano e di un albanese, quest'ultimo accompagnato alla frontiera di Bari. Altri due provvedimenti di allontanamento nei confronti di due cittadini comunitari, un romeno ed un estone. Nel bilancio dell'attività condotta negli ultimi tre mesi dai vari reparti della Polizia di Stato operanti in provincia di Sondrio con l'obiettivo di rafforzare il controllo del territorio, la prevenzione dei reati e di conseguenza la maggiore difesa della sicurezza della collettività spiccano anche 30 fogli di via obbligatori con divieto di fare ritorno nel territorio di Valtellina e Valchiavenna adottati dalla divisione di polizie anticrimine su proposta dell'ufficio prevenzione della questura e dell'arma dei carabinieri. In particolare 23 dei 30 soggetti colpiti da provvedimento sono stranieri, per lo più pregiudicati, sorpresi durante tentativi di furto o trovati in possesso di arnesi atti allo scasso, di piccole quantità di stupefacenti e in un caso anche durante un tentativo di truffa. In alcuni casi il foglio di via è stato emesso anche a carico di stranieri con regolare permesso di soggiorno emesso da questori di altre province o di comunitari con precedenti di polizia, sorpresi più volte ad elemosinare in maniera insistente e molesta davanti ad esercizi commerciali. Il foglio di via obbligatorio prevede il divieto di fare ritorno nel territorio di competenza dell'autorità che l'ha emesso a seconda della gravità della condotta e della pericolosità del soggetto per un periodo di tempo variabile da 1 a 3 anni, pena la denuncia penale in caso di mancato rispetto. Emessi dalla questura di Sondrio anche 19 avvisi orali a cambiare condotta, provvedimenti cui spesso fanno seguito proposte di sorveglianza speciale, misura di prevenzione, con restrizioni e vincoli più incisivi. Negli ultimi tre mesi inoltre gli equipaggi delle sezioni volanti coadiuvate dai colleghi dei reparti prevenzione crimine di Milano e Torino hanno intensificato i controlli su strada identificando circa 2000 soggetti e controllando 850 veicoli con 46 soggetti denunciati a piede libero per vari reati.